allora the catapult se io faccio no questo gioco è molto allora mi sono spaventato quasi ma se lo prendo ho preso oddio cioè io ho cliccato vabbè allora vediamo un po intanto vorrei vedere un attimo gli obiettivi ok direi di iniziare vediamo com'è questo gioco pure in due si può giocare ok ma ok do double capapulta vabbè giocare in due sicuramente una a sinistra una a destra allora un player un giocatore quindi non c'è modalità online a quanto ho capito per tutti i titoli della serie anche il 2 è quello contro i pirati ok oh dio come è venuta a spiegare il sacco no ma troppo l'acqua troppo l'acqua troppo l'acqua oddio l'ho preso proprio in alto allora questo vediamo così forse no questo lo devo preso ok oddio oddio un po' di meno 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 ma quanto deve arrivare un po' di meno 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 ok ok si una bella capriola si si ok sono a 10 sono arrivato oddio ora sono a 10 o Sì, sì. l'ho preso a quello, meno male l'ho preso l'ho preso allora posso continuare spendendo quei soldi ma io non continuo ovviamente no però mi guardo il video un attimino ok quindi mi dà il doppio raddoppia conviene guardare i video quindi se io torno adesso ecco c'ho 200 340 mi sa che no mi conviene no voglio arrivare a 1000 qui 999 se riesco 71 poi qui 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti